Mi sembra che siamo di fronte a una delega vaga, che non dice nulla, il governo già preannuncia che non dirà nulla neppure sugli emendamenti sull'articolo 18, il demansionamento sembra che sia di fatto abolito, non sappiamo di cosa stiamo parlando, è ovvio il nostro atteggiamento contrario rispetto a un atteggiamento e un provvedimento di questo genere.